Best for Soil. Disinfestazione anaerobica del terreno. Vantaggi e svantaggi. Vi darò informazioni sui vantaggi, ma anche sugli svantaggi, del metodo di disinfestazione anaerobica del suolo, denominato ASD. Se non sapete che cos'è l'ASD, date un'occhiata al video di Best for Soil contenente informazioni pratiche su questa tecnica. Che cos'è l'ASD? Il termine ASD significa disinfestazione anaerobica del terreno. È un metodo che crea condizioni anaerobiche temporanee limitate allo strato superiore del suolo. La maggior parte dei patogeni e dei nematodi non è in grado di sopravvivere in carenza di ossigeno e quindi muore. La corretta gestione dell'ASD richiede l'applicazione di una tonnellata di materiale vegetale fresco, erba o sovesci, per ettaro per centimetro di profondità nel terreno. Spesso 40 tonnellate per ettaro vengono incorporate in 40 centimetri di profondità nel suolo. Il terreno deve essere bagnato o esserlo stato. La superficie viene ricoperta con un film plastico che, a seconda degli organismi bersaglio, dovrebbe restare in sede per almeno 6 settimane. L'ASD è molto efficace nel controllo di molte specie di nematodi. Ad esempio i nematodi della radice, i nematodi cisticoli della patata, i nematodi galligeni, melodoigine, citudi, fallax e incognita, e persino i nematodi del colletto di Tilencus dipsaci, regrediscono fortemente. I funghi Rizoctonia solani AG3, Verticillium dalie e Sclerotinia scleroziorum non sopravvivono a un ASD ben eseguito. L'ASD viene implementato con successo nella fragola per il controllo di Verticillium dalia e nell'asparago per il controllo di Fusarium oxysporum FSP asparagi. Poiché solo il materiale organico e l'acqua sono incorporati nel terreno, nessuna sostanza chimica indesiderata rimarrà nel terreno dopo il processo di disinfestazione. Il terreno non è sterilizzato come dopo una disinfestazione a vapore. Molti organismi benefici sopravvivranno all'ASD e si riprenderanno in pochi giorni, alcuni di loro persino nel giro di poche ore dopo aver rimosso il VIF. Alcune specie non sono sensibili all'ASD, ad esempio i Tricodorus, chiamati anche nematodi a vita libera, che trasmettono il virus della necrosi striata del tabacco. La rizoctonia AG2, quella della carota e della barbabietola da zucchero, non possono essere controllate e i problemi con il FITZIUM possono peggiorare dopo l'ASD. Quindi, prima di usare l'ASD, devi sapere quali parassiti o malattie sono presenti sul campo e controllare se l'ASD è efficace. L'ASD non è efficace a temperature del suolo inferiori a 15 gradi Celsius. Ciò significa che per i paesi del nord il metodo deve essere applicato durante la stagione estiva. Per implementare l'ASD, devi scegliere una specie vegetale che venga raccolta in anticipo. L'attuga, piselli, orzo invernale sono alcuni esempi di utilizzo efficace. Il film plastico di copertura, WIF, deve essere controllato durante il trattamento per evitare che subisca danni dovuti in particolare a fori accidentali. Questi devono essere riparati al più presto per evitare la penetrazione dell'ossigeno nel terreno che renderebbe inefficace il trattamento. Il WIF può essere utilizzato una sola volta e non può essere riciclato. Questo rende il metodo costoso. Sono in fase di ricerca alternative come un rivestimento spray o altre materie plastiche riutilizzabili. Ad oggi, questo metodo è conveniente per colture ad alto reddito come asparagi, fragole o per il trattamento di piccole superfici. Anche gli organismi utili del suolo che necessitano di una fornitura regolare di ossigeno, come i lombrichi terricoli, non sopravviveranno al processo ASD.